È stata un'esperienza entusiasmante che ci ha coinvolto molto sia sul fronte di partecipare a un processo innovativo di ricerca così importante come azienda, ma anche sul fronte familiari e personali è stata accolta con grande favore rispetto allo studio di fattibilità che abbiamo appena concluso. Ha fatto emergere dei risultati soddisfacenti in termini di fattibilità e di accettabilità dello strumento della realtà virtuale e in termini poi anche di gradimento da parte dei pazienti è emerso un apprezzamento, un gradimento nell'esposizione della realtà virtuale in contesti naturali, personalizzati e personalizzabili da parte dei residenti. In alcuni tratti con dei ricordi, con una riminiscenza di ricordi passati. Quindi siamo davvero orgogliosi di poter far parte di questa progettualità e ringraziamo FBK per averci coinvolto e per la fiducia nella nostra organizzazione nel coinvolgerci in questo percorso che riteniamo strategico anche per l'azienda. Ci auguriamo di proseguire con un altro studio di fattibilità che possa coinvolgere un più ampio numero di persone in contesti che prevede una realtà virtuale in contesti più familiari.